Grazie a tutti. Questa sera proseguiamo un percorso che è iniziato nell'aprile scorso, nel 2023, al termine con i due eventi che abbiamo fatto al Teatro Galli in cui erano presenti Fiammetta Borsellino, Don Claudio Burzo e il magistrato Roberto Di Bella. Il tema della volta scorsa era una giustizia che ricrea, per chi vuole riguardarli entrambi i video sono presenti sul nostro canale YouTube. In quell'occasione abbiamo cercato di approfondire, di documentare come sia possibile una giustizia che non è fatta solo di regole, di vieti, sanzioni, procedure, ma che anche attraverso quegli strumenti e a volte anche in modo creativo può collaborare a far sì che vittime, colpevoli, possano camminare verso un percorso di riconciliazione, verso un percorso di perdono, di responsabilità e appunto di ripartenza. In poche parole una giustizia che in qualche modo collabora ad aiutare l'uomo nel suo percorso di compimento, che è un po' il desiderio che ci accomuna a tutti quanti. In quell'occasione alla fine dell'incontro avevamo detto una cosa, che il tema di ricominciare nella vita dopo una caduta, dopo una delusione, dopo qualcosa che sembra fermarla, dopo aver commesso anche il male, è una questione che riguarda tutti quanti. E quindi questa sera le domande che un po' porremo ai nostri ospiti sono proprio queste, cioè come ripartire, come ricominciare nella vita, che cosa vuol dire, vuol dire una performance migliore rispetto al passato e chi è caduto, che cosa ha da dire a chi ancora non ha subito questa esperienza. Queste appunto sono le domande che ci hanno guidato nel lavoro di questi mesi e che poniamo ai nostri ospiti questa sera. Permettetemi di ringraziare anche Giorgio Paolucci che modererà l'incontro, autore del libro Centro di Partenze, che è un po' quello che ha anche ispirato il lavoro di questa sera e l'incontro di questa sera. Gli lascio il compito di moderare l'incontro e poi ci vediamo alla fine per delle conclusioni e alcune comunicazioni finali. Buon lavoro, buona serata. Buonasera, allora Matteo ha fatto già una esauriente presentazione, che così io non faccio, e presento subito gli ospiti che sono i veri protagonisti di questa serata. Alla mia sinistra è Don Luca Montini, sacerdote, membro della Fraternità Sacerdotale dei Missionari di San Carlo Borromeo e anche autore di un libro pregevole che si chiama Con un piede in paradiso, di cui parleremo dopo, che racconta un po' la vicenda dei suoi ultimi anni e di questi anni recenti. Poi alla mia destra c'è Yusa Tangara, che viene dal Mali, anche se adesso viene da Bologna, fondatore dell'associazione Iere de Meton, che significa mutuo aiuto in lingua Bambara, che è la lingua prevalente nel Mali, che ci racconterà la sua bellissima storia. E poi alla mia destra, in fondo, Gustavo e Manuela Russo, moglie e marito, loro si definiscono una famiglia ritrovata, vedremo dopo cosa c'è dietro questa definizione. Direi due persone che sono state segnate positivamente dall'incontro con l'esperienza del progetto CEC, Comunità Educante con i Carcerati, che è una esperienza nata dal carisma di Don Oreste Benzi, credo molto noto ai presenti, e dalla Comunità Papa Giovanni XXIII, e questo progetto fondato da Giorgio Pieri, che è tra di noi questa sera e che salutiamo. Allora, loro sono portatori di tre storie molto diverse, come vedrete, segnate anche da aspetti drammatici, che però sono tenute insieme da questo elemento della fragilità, della difficoltà, della fatica, della sofferenza, e nello stesso tempo del desiderio di andare oltre questo momento di fatica, questo momento di sofferenza. La cosa che mi colpisce è che loro, mi pare che sono, come dire, la conferma di una bellissima frase di Anna Arendt, la filosofa tedesca, di origine tedesca, che dice Gli uomini, anche se devono morire, non sono nati per morire, ma per ricominciare. Ecco, loro, conoscendo le loro storie, io ho riscoperto la verità di questa frase, e anche la verità della frase che gli organizzatori hanno messo nella locandina di Cesare Pavese, no? È bello vivere perché vivere è ricominciare. Ce lo testimonieranno attraverso un dialogo molto, speriamo, familiare, non ingessato, che vorrei proporre con loro, e ci fanno capire, appunto, che la fragilità appartiene alla dimensione naturale dell'uomo. Può avere dei momenti di drammaticità, come nel caso delle loro storie, può essere dentro le pieghe della vita quotidiana, come nella storia di ciascuno di noi. Se siamo onesti, ognuno di noi trova dei momenti di debolezza, di fatica, di fragilità. Però questo non è ciò che definisce la natura umana. La natura umana è definita da qualcosa di più, dal desiderio di andare oltre. Che cosa permette di andare oltre? Permette di andare oltre un carattere particolare, un temperamento positivo, delle attitudini fisiche o spirituali? Ci vuole qualcos'altro? Che cosa ha permesso a loro di superare questo momento di fatica e di incamminarsi verso una vita che ricomincia, come dice il titolo di questa serata? Allora, io partirei da Manuela e Gustavo. Io descrivo molto brevemente alcuni tratti della loro storia. E poi li ascoltiamo attraverso un dialogo con loro. Ci permetteranno di approfondire alcuni temi che stanno dentro questo tema della ripartenza. Allora, Manuela e Gustavo si conoscono a ballare, in discoteca. Si innamorano, nel 2005 si sposano, nascono dal loro matrimonio due figli, seguono 12 anni di matrimonio che a un certo punto sono segnati anche da episodi di maltrattamento fisico, di Gustavo nei confronti di Manuela. Ogni volta con la speranza di Manuela che questo fosse l'ultimo episodio, ma non era mai l'ultimo. Manuela ha sempre tenuto nascosto questo aspetto del loro rapporto, non ne ha parlato neppure con i suoi genitori, finché un giorno non ce l'ha più fatta. e dopo l'ennesimo episodio di violenze in famiglia, di maltrattamenti, va dai carabinieri e denuncia suo marito. Il marito viene arrestato per i maltrattamenti familiari, Gustavo finisce in carcere e dopo 25 giorni gli viene proposta un'alternativa al carcere attraverso questo progetto di cui dicevo prima, CEC, Comunità Educante in Carcere, gestito dall'Associazione Papa Giovanni XXIII, e inizia questo suo tentativo di cambiare, di riconciliarsi col passato, di riconciliarsi con la vita e di pensare al male che ha commesso attraverso un'esperienza di espiazione e di rivisitazione della sua vita. Questo percorso va avanti per un po' di anni, lui diventa anche operatore all'interno della CEC, della Comunità Papa Giovanni XXIII, e da pochi mesi, mi pare, sì, pochi mesi, loro due sono tornati a vivere insieme, nel loro caso, insieme ai loro figli, una famiglia ritrovata. Questa è un po' la storia, come vedete, con tinte abbastanza forti, abbastanza drammatiche. Gustavo adesso magari ci aiuta a capire che cosa vuol dire iniziare un cambiamento, cioè che cosa ti ha permesso, Gustavo, di guardare al male che avevi commesso, di fartene una ragione e di capire che questo male poteva non essere l'ultima parola definitiva di condanna sulla tua vita. Che cosa è stato decisivo per iniziare questo percorso, Gustavo? Intanto buonasera a tutti. Io direi che la prima fase importante è stata proprio uscire allo scoperto, non nascondere più questo e non è stato dipeso da me, ma dal coraggio che ha avuto mia moglie. Nascondere vuol dire non ammettere, vuol dire non dichiararlo, vuol dire non prendere atto di quello che hai fatto, vuol dire non conoscere neanche il motivo per cui succede, nonostante ami le persone che hai vicino. e quindi inizi a farci i conti. A un certo punto senti davvero che hai perso tutto. Noi abbiamo anche due figli. Quindi iniziare a elaborare quello che è accaduto, che faceva star male, per la prima volta non stavo male per me, ma per gli altri. E più passavo attraverso questo male, più mi rendevo conto di quando fosse grave quello accaduto. e una volta arrivato dopo il passaggio del carcere in comunità della Papa Giovanni inizia questo percorso dove inizia pian piano a darti delle risposte e si parte elaborando proprio un vissuto di cui ci sei stato sempre lontano perché solo a pensarci faceva star male. Le domande che mi ponevo erano un po' una sofferenza perché erano spinte, ne avrei voluto fare a meno. In realtà, pian piano, mentre si rispondeva a alcune di queste domande, iniziavo a rivivere sentendomi non solo quello sbaglio, cosa che nella mia vita non potevo assolutamente pensare. Il primo a darsi un giudizio fortissimo per un certo motivo e per quello accaduto era anche giusto, ero io. Giudicandomi e credendomi di non poter mai fare niente davanti a quella sofferenza. in quei momenti lì tutte le insicurezze vissute da bambino fino ad adulto non sono mai state gestite dentro di me e quindi le difficoltà diventavano un ostacolo enorme e in quell'ostacolo sentivo che gli altri erano causa di quel dolore perché veniva tutta l'insicurezza di Gustavo che era di quel bambino che è stato strutturato ed educato in modo violento per una famiglia che a sua volta aveva delle grosse difficoltà insicurezze e quindi i problemi si risolvevano in questo modo qui. Io non ho imparato altri strumenti e non sono riuscito a trovarli finché non ho trovato persone che sono stati d'esempio in questi strumenti me li hanno insegnati me li hanno fatti vivere tutti quegli odi venivano elaborati perché l'odio più grande era verso mio babbo che io fino a sei anni fa lo ritenevo un mostro oggi lo capisco io sono vicino e c'è stato anche un percorso comunque di perdono davanti ho babbo che ha io offuscato del tutto il prima quel prima bello che c'è stato di mio babbo in realtà non è sempre stato un mostro è stata una persona con delle difficoltà che a un certo punto riconoscendo oggi che aveva le mie stesse il timore più grande era quello di di perdere tutto di non non farcela di non riuscire a sostenere una famiglia questa paura era enorme lui l'ha vissuto uguale la stessa paura io un po' l'ho assorbita questa cosa e in realtà è stato un babbo affettuoso è stato un babbo attento con tutti i suoi limiti con tutta la sua semplicità e a un certo punto queste difficoltà queste fragilità che lui aveva dentro di sé sono emerse e quindi hanno causato un abbandono di se stesso e provando a curarsi con l'alcol questo ha cambiato totalmente la persona e da lì il caos e praticamente io ho vissuto in questa comunità con persone che mi ricordavano tanto mio babbo uno degli strumenti fortissimi è proprio la convivenza con persone che non scegli e quelle persone con cui fai più fatica che non sono sbagliate e ti mettono davanti quella verità interiore emotiva raccolta dai traumi vissuti fragilità proprio è un rigetto pian piano io queste persone le ho volute bene ricordavano tantissimo mio babbo perché avevano problemi di alcol perché erano violente guardandole a fondo riuscivo a capire sentendo dentro la loro storia che il problema c'erano dei problemi non erano persone cattive e pian piano volendo bene queste persone anche accompagnandole in qualche modo perché poi ci accompagniamo uno con l'altro perché ci salviamo tutti insieme iniziavo a volergli un gran bene a queste persone ed ecco che cambia lo sguardo di Gustavo verso suo babbo dove arriva un perdono verso se stesso perché ho iniziato a guardarmi anch'io con occhi diversi uscendo fuori da quel giudizio terribile che avevo di quella persona sbagliata che in realtà commettevo degli sbagli una vita ti struttura in un certo modo se vivi solo quello e in realtà Gustavo ha scoperto pian piano di avere un altro lato della medaglia dentro di lui e riconoscere una facciata che non aveva mai visto e non sapeva neanche di essere capace di poter vivere e quindi vedere che c'è anche tant'altro di bello e quindi pian piano riuscire a capire anche che che comunque si può cambiare facendo i conti con le proprie ferite ed elaborando comunque una vita passata questo tocca dei punti veramente dei tasti difficili da passare però bisogna passare attraverso questa sofferenza riconoscere ammettere che poi quelle fragilità che possono essere vissute come dei limiti quindi insopportabili accettandole riguardo i conocchi diversi davvero è tutto un altro pianeta perché può diventare il proprio bello quindi mi pare c'è stato un incontro con delle persone e anche con un luogo e questo incontro è stato da quello che tu stai dicendo decisivo per questo processo di rivisitazione del tuo passato che non è stato più un macigno di condanna sulla tua vita ma l'occasione per vedere quella che tu hai chiamato l'altra faccia di Gustavo l'altra faccia della medaglia l'altra faccia della tua vita però nello stesso tempo questo incontro con queste persone con questo luogo non ti ha fatto dimenticare cioè non è stata un'anestesia sul tuo dolore è stato qualcosa che te lo ha fatto guardare in faccia questo dolore e quindi hai fatto più pesantemente forse i conti con il male che avevi commesso non l'ha cancellato come un colpo di spugna no assolutamente anzi e più realizzavi questo e più si sentiva male perché si esce fuori da se stessi io vivevo in un modo cioè l'egocentrismo era era l'ennesima potenza io pensavo solo a me stesso perché fin da piccolo ho cercato amore e non l'ho avuto e questo un po' mi ha portato a essere un po' centrato su me stesso cercando di di che qualcuno mi guardasse con occhi diversi che qualcuno mi guardasse a volte quindi nelle mie fatiche nella relazione anche con mia moglie quando sentivo ma era una sensazione perché sono certo che mi amava allora e mi ama tutt'oggi era una mia sensazione un ricordo elastico che tornava indietro di quelle emozioni che si sono vissute da piccolo e che non riuscivi a gestire quindi bisogna fare per forza i conti con quelle ferite anche se fa male quelle ferite con cui ha fatto i conti anche Emanuela che ha passato tanto tempo arrabbiata ovviamente con suo marito e arrabbiata anche con Dio che non che non la guardava che non affrontava il 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 suo dolore la sua sofferenza finché in un rapporto con un sacerdote ha iniziato a guardarsi in una maniera diversa e da lì ha cominciato anche a guardare ha cominciato perché il processo è andato avanti la dinamica la fatica la salita è durata anni non è stato un colpo di bacchetta magica ha cominciato uno sguardo diverso su se stessa e uno sguardo diverso su Gustavo e uno sguardo diverso su tutta la realtà questo sacerdote un giorno le ha detto tu non puoi perdonare se non ti senti perdonata e amata e questo è stato un po' l'inizio della sua ripartenza Manuela buonasera allora io si stavo molto 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 male mi ero rifatto una vita lavoravo con i ragazzi fondamentalmente stavamo bene eravamo aiutati veramente da tutti però ero molto arrabbiata ero molto arrabbiata perché da sola non riuscivo a superare la paura l'angoscia la non voglia della costruzione di un futuro ecco io vivevo nel passato ma neanche nei ricordi perché facevano schifo vivevo proprio nel passato e poi questo don mi ha raccolto ero alla Caritas e abbiamo iniziato un percorso insieme e piano piano questa questa rabbia grazie all'aiuto di Dio si è dissolta perché il perdone è un dono sta di fatto che se ti aiutano ti fanno ti raccolgono e ti fanno comprendere ciò che hai vissuto e anche la dinamica della della persona che magari ti può che ti ha fatto del male in qualche modo non giustifichi prendi atto prendi atto delle tue fragilità prendi atto delle sue prendi atto che tu da quella gabbia nella quale sei rinchiusa che magari adesso ha anche il cancelletto aperto puoi finalmente uscire perché finché tu rimani nella gabbia tu quelle sbarre le continui a vedere anche se la porta è aperta nel momento in cui con l'aiuto del buon Dio riesci a perdonare il perdono libera libera a te perché finalmente sei libera di rifarti una vita serenamente con tutte le tue forze senza rabbia senza rancori senza senza tutte quelle paure che fino a quel momento ti hanno accompagnato e liberi anche la persona che ti ha fatto del male perché nel momento in cui hai un confronto e noi ne abbiamo avuti diversi anche grazie all'aiuto di Giorgio e che comunque abbiamo analizzato anche il nostro matrimonio tutto quello che abbiamo vissuto non è stato facile cioè perché al di là dei episodi di violenza comunque c'era un matrimonio che di suo aveva fragilità perché noi eravamo fragili con il nostro passato quindi insieme eravamo una bomba praticamente noi poi abbiamo anche due figli che adesso sono grandi uno ha quasi 18 anni uno 16 quindi loro hanno vissuto con noi le nostre vicissitudini quindi noi a un certo punto prendendo anche le nostre consapevolezze abbiamo riconosciuto anche di aver fatto vivere a loro veramente tanti momenti brutti di insicurezza di poco amore di poca considerazione e quindi una volta che ho avuto la possibilità di vivere leggera nel senso che tutto quel dolore era stato dissolto dalla mano di Dio allora abbiamo potuto anche riguardarci perché lui aveva potuto fare il suo percorso riconoscere le sue fragilità e come anche affrontarle perché poi uno le riconosce ma deve anche saperle affrontare deve saperle in qualche modo leggere non giustificarle però accettarle e moderarsi sapersi moderare in quelle che sono le difficoltà della vita che tutti abbiamo perché tu non puoi prevedere il futuro puoi decidere con chi camminare noi di amici ne abbiamo avuti tanti questa donna a me mi ha regalato la possibilità di liberarmi da tutto quel dolore il signore ha fatto il resto e noi abbiamo potuto riguardarci con uno sguardo libero che se no non sarebbe potuto accadere una domanda a Gustavo tu adesso lavori come operatore all'interno di questo progetto CEC e sei diventato anche uno che in qualche maniera aiuta gli altri a fare il percorso che tu sei stato aiutato a fare quindi questa restituzione che tu stai facendo come la vivi? innanzitutto è proprio un donarsi della propria esperienza che ti è stata poi donata e quindi va restituita assolutamente perché una volta che hai visto hai capito non è che puoi far finta assolutamente poi di questi bisogni veramente ce ne sono tanti noi una volta rincontrati anche fra noi avendo avuto una relazione più aperta più chiara riconoscere le proprie fragilità da dove arrivano è stato un punto di incontro importante per la nostra relazione perché ci curiamo in quelle ferite ma veramente in modo sì oltre che sano ma proprio veramente con una felicità pazzesca perché ogni volta che accade poi riconosci tutto questo e sono delle soddisfazioni quindi anche con i ragazzi io provo a fare questo che è quello che io ho vissuto e guarda caso veramente c'è io una parte qui davanti e ognuno di loro parla di me e sono sicuro che anche io parlo di loro e quindi sono degli aiuti potentissimi loro mi aiutano tutti i giorni a realizzare questo e nel nostro tempo lo faccio anche con i miei figli perché comunque loro hanno vissuto delle situazioni spiacevoli in casa e che probabilmente hanno aperto delle ferite con tutte le fragilità che oggi si vedono ed è veramente una coccola oggi poter accompagnare tutto questo come si prova a fare anche nella vita di tutti i giorni che è poi la vita di comunità insomma con tante fatiche realizzando tutti i giorni che comunque c'è un cammino da fare perché non è che si arriva si finisce e si mette il chiodo assolutamente è un cammino di crescita continuo Don Benzi diceva che per stare in piedi bisogna mettersi in ginocchio tu hai vissuto mi pare da quello che ci sta raccontando esattamente questa questa dinamica sì sì lo ripeto sempre ragazzi a volte sembra incomprensibile perché devo stare così male invece passando attraverso quella sofferenza è proprio il salto di qualità è quello che ti dà aiuto in tanti punti che prendi dentro tutto la tua parte interiore una consapevolezza importante che ti aiuta a fare la differenza davanti alle tue fragilità e sono sono tutti i giorni tutti i giorni grazie e non è vietato applaudire anche perché credo che sia abbastanza complicato raccontarsi davanti a così tante persone sconosciute quindi grazie per il vostro coraggio e il fatto di mettervi in gioco così Don Luca Don Luca Montini 36 anni viene da Brescia sacerdote della Fraternità dei Missionari di San Carlo Borromeo una giovinezza possiamo dire molto sportiva tipo sportivo faceva un sacco di cose basket moto pugilato andato alla Santiago di Compostela in bicicletta due settimane di pellegrinaggio ciclistico e religioso quindi una vita molto dinamica entra in seminario poi viene mandato dalla Fraternità di San Carlo in Cile due anni dopo diventa missionario a Nairobi in Kenya nel frattempo è diventato sacerdote nel 2018 e tre anni dopo nel 2021 accade l'episodio che segna la sua esistenza è in moto a Nairobi sta andando a ritirare una cosa che deve arrivare mi pare dall'Italia e un pick up gli taglia la strada e lo investe e la sua gamba viene completamente triturata fracassata macellata da questo incidente viene ricoverato per le prime cure a Nairobi e poi trasferito in Italia a Brescia all'ospedale poliambulanza e qui gli viene comunicata una notizia dolorosa che bisogna procedere all'amputazione della gamba e all'applicazione di una protesi e questo evidentemente è qualche cosa che segna in profondità la sua esistenza oggi Don Luca insegna religione in un liceo di Brescia vive molto in mezzo ai giovani poi ci racconterà anche la ricchezza di questa vita in mezzo ai giovani di Brescia e non solo e ha raccolto questa parte diciamo più dolorosa della sua esistenza in un libro che trovate poi fuori Un piede in paradiso io leggo un paio di brani che mi hanno colpito del suo libro e che ci permettono un po' di andare alla profondità di quello che gli è capitato I primi giorni dopo l'amputazione non volevo scoprirmi la gamba provavo riluttanza a farmi vedere con la gamba amputata un misto di imbarazzo di vergogna e di fatica ad accettare questa realtà non è facile mostrarsi nella propria debolezza dire agli altri e a se stessi senza parlare che non siamo invincibili noi viviamo oggi in una società che censura tutto questo che censura la fragilità che punta molto sulla performance e sul mito della perfezione allora Don Luca raccontaci cosa ti ha aiutato ad affrontare una situazione così difficile e ad accettare questa questa condizione non come una condanna ma come un possibile punto di ripartenza dalla tua vita sì quando quando ero in poliambulanza appena dopo l'amputazione sono rimasto appunto sotto le coperte per qualche giorno e non volevo scoprirmi non volevo svelare ma nemmeno a me stesso quello che veramente era accaduto pensate che appena dopo l'amputazione per vedere se era successo veramente quello che i medici mi avevano detto c'era ancora su le lenzuola appena svegliato dall'anestesia mi ricordo che con la mano destra sono andato giù a toccare la gamba destra coscia ginocchio tibia piede tutto opposto poi con la gamba sinistra dall'altra parte coscia ginocchio e poi le lenzuola andavano giù ma non l'ho mai scoperto insomma sono rimasto lì sotto e ho visto uno psicologo penso il giorno dopo al quale ho parlato e mi ha detto che dovevo ricominciare da una domanda e la domanda era chi sono io adesso chi sono io adesso io sono rimasto un pochino così di fronte a questa questa provocazione dello psicologo perché in Africa mi occupavo di dirigere una clinica un ospedalino e ho aiutato un sacco di persone sia in ospedale che fuori da sacerdote diciamo a guardare a se stessi eccetera e mi sembrava quasi non so lo so io chi sono sono un prete missionario in Africa ma potrò tornare in Africa sono uno che dirige un ospedale cioè lavoravo 12 ore al giorno ma potrò stare ancora in piedi 12 ore al giorno dopo quelle 12 ore sempre quando tornavo facevo i 10 chilometri di corsa i 40 minuti di corsa ma potrò ancora correre eccetera eccetera cioè qualsiasi risposta tentassi di dare alla domanda chi sono io andava a scontrarsi con l'incidente che avevo fatto e dunque chi sono io ed è chiaro che avevo in mente una risposta la risposta giusta sono un figlio di Dio sì va bene però cioè non era la risposta che in quel momento era vera non era quella che sentivo cioè non mi sentivo di dire questo anzi mi sentivo di dir ben altro e in mezzo a questa fatica faticavo appunto a vedere una possibilità positiva e sono rimasto lì sotto le lenzuola dopodiché dopo appunto tre o quattro giorni che ero sotto le lenzuola quando venivano i medici a medicarmi mi coprivo col cuscino è successo questo che tra le varie cose io ho il vizio di fumare però in ospedale non è che si possa fumare però si può sempre scappare fuori però c'era il covid quindi cioè era tutto bloccato allora un giorno siccome appunto lavoravo in quell'ambito avevo imparato un po' tutti i movimenti dei medici degli infermieri allora avevo rubato un pochino di garze e poi sapevo quando i medici non erano in giro perciò ero uscito dalle porte antipanico perché dalle porte antipanico e faccio l'uscita ma poi e rientrare al problema allora l'avevo incastrata con le garze e vabbè comunque con la mia sedia a rotella è tutto piano piano non è che sembra mission impossible ma è tutto rallentatore comunque sono scappato fuori piano piano dopo quattro o cinque giorni appunto e sono andato al piano terra dove c'era l'uscita e potevo fumare una sigaretta e mi ricordo ancora c'era lì un distributore di gelati e avevo preso un solero al mango perché sentivo la nostalgia dell'Africa quindi c'era un solero al mango da una parte le lacchi stracche dall'altra intanto spingevo la carrozzina e con sulla coperta ovviamente perché non volevo vedere le gambe a un certo punto vedo che c'ho qualcuno che è piantato davanti a me allora alzo gli occhi e non era la madonna ma un amico dai tempi del liceo un amico grande un amico importante e quello che mi ha colpito di quell'incontro è stato che io non mi ricordo niente di quello che ci hanno detto ma mi ricordo cosa almeno non ci siamo detti per esempio non mi ha detto oggi con le protesi si fa tutto vai tranquillo oppure sei un prete hai tanta fede non ti preoccupare che le cose si risolvano queste robe qua non mi ha detto niente di questo mi ricordo però che mi guardava fisso negli occhi e che in quello sguardo non c'era altro che gioia o gratitudine per il fatto che io ci fossi non perché avevo fatto un ospedale in Africa non perché avevo aiutato tante donne a partorire non perché avevo fatto chissà non perché correvo i dieci chilometri alla svelta ma perché c'ero quando sono tornato su in camera dopo la sigaretta ovviamente e il gelato quando sono tornato in camera mi ricordo che mi sono fermato lì un attimo ho detto la risposta è evidente chi sono io io sono un dono perché ci sono non per quello che posso fare ma la cosa che veramente mi ha colpito che per me è stata una scoperta è stato che nonostante sia prete nonostante gli studi nonostante le diecimila robe ma l'ho potuto scoprire perché l'ho visto riflesso negli occhi di un amico non l'ho scoperto da me non ci sono arrivato da solo non ho pensato ai libri di teologia o altre robe l'ho visto ho visto uno che mi guardava così e anch'io mi sono potuto riguardare nello stesso modo sono un dono non per le cose che ho fatto o per quelle che farò o che non potrò fare sono un dono perché ci sono e in questo senso mi accorgo che l'esperienza che ho fatto in qualche modo è stato direi un privilegio perché prima dell'incidente o meglio quando ero lì nel letto e pensavo alla domanda dello psicologo io ero capace solo di dare risposte esteriori nonostante appunto tutto e invece un po' la volta mi sto accorgendo che è proprio vero che sono un dono a prescindere da quello che ho fatto da quello che farò eccetera eccetera permettetemi già che sono prete Gesù disse siete tutti servi inutili no? ecco mi sono accorto di questo di quanto sia in verità meravigliosa questa parola di Gesù che non sminuisce ciò che noi facciamo ma che rende verità del dono che noi siamo sono un servo inutile ovvero sono un dono non per ciò che faccio ma per il fatto che ci sono questa è stata forse la scoperta più grande in quel momento ecco ma la sofferenza questo prete o questa persona che ti è venuto a trovare non te l'ha tolta minimamente il dolore eccetera no? allora uno dice vabbè mi aiutano ma la sofferenza è tutta mia quindi o dai un senso un significato alla sofferenza o anche gli amici che possono circondare il tuo letto possono non bastare tu come hai fatto a dare un senso a questa sofferenza? gli amici possono non bastare e questo è vero ma gli amici possono essere il segno di qualcosa di più grande e questo è altrettanto vero mi ha colpito tantissimo in quel periodo pensare a una cosa che non avevo mai pensato prima ovvero alle parole della Madonna di fronte alla croce aspetta che parole ha detto Maria di fronte alla croce? nessuna ed è bellissimo cioè Madonna non ha detto niente di fronte al figlio che era a croce fisso e io mi sono accorto che tutte le parole dei miei amici erano inadeguate erano inappropriate non erano all'altezza e tutto quello che vuoi come diceva Giorgio cioè che la croce era mia cioè tutti mi potevano stare vicino a modo loro ma quello che io ero chiamato o quello che a me è toccato di portare è toccato a me non ad altri eppure la compagnia degli amici è stata come le briciole di Ansel e Gretel che come dire non tolgono il cammino che devono fare per tornare a casa però indicano la strada ecco sostate questo per esempio c'era un medico neonatologo che tutte le mattine veniva a trovarmi e mi portava portava un caffè un cappuccio e una brioche il cappuccio e la brioche erano per me il caffè era per lui e facevamo colazione insieme tutte le mattine io pensavo ogni volta che lo vedevo lì ma che grande è Dio che suscita la carità in quest'uomo di venire a trovarmi ogni volta di stare qui con me cioè il fatto di guardare alla sua carità era uno slancio immediato verso chi l'aveva suscitata in lui oppure c'è stata Benedetta un'altra dottoressa che quando sono andato a fare delle visite specialistiche mi ha accompagnato la prima volta sono andato da solo a Verona che è andata male la seconda sono andata a Torino che è andata pure peggio però che bello è andare insieme in ambulanza pregando le nodi e soprattutto tornare insieme piangendo insieme dico cioè non è la stessa cosa piangere da solo e piangere in due non è la stessa cosa poi è chiaro che alla fine l'amputazione l'ho subita io non Benedetta però era esattamente come la Madonna di fronte a Cristo evidentemente con le dovute analogie però senza come dire poter entrare in questo in questo dolore ma potendolo accompagnare ovvero entrandoci in un modo diverso un'altra compagnia grandissima che c'è stata per me è stata quella di un amico sacerdote che perché è quello che succedeva perché in Africa dovete cioè perché adesso appunto non avendo raccontato faccio anche un pochino fatica ma quando io la prima operazione che ho fatto ero in mezzo alla savana ok non c'era neanche l'anestesia ok ero su un tavolo tipo questo cioè mi hanno salvato la vita nel senso che hanno fermato il flusso di sangue e tutto però su un tavolo così cinque ore insomma non è stato divertentissimo e poi dopo le altre nuove operazioni che ho avuto in Kenya appunto sono state abbastanza movimentate ok mi ricordo che quando avevo dolore urlavo all'infermiera di venire arrivava questa infermiera kenyota trotterellando direi con una siringa in mano la piantava nella coscia schiacciava giù tutto e ciao era morfina quindi ho fatto due overdose da morfina dopo nel senso è stata abbastanza pesante perciò facevo fatica a leggere facevo fatica a star concentrato mi addormentavo in continuazione e poi spesso ero anche nervoso adesso penso anche di venire a qualche ragione insomma comunque quindi a un certo punto mi ricordo che non ce la facevo cioè non ce la facevo più voglia di pregare proprio spesso non ce la facevo voglia ero arrabbiato e dall'altro lato mi sentivo anche un pochino in colpa allora ho chiamato un mio amico sacerdote e gli ho detto ascolta io basta non ce la faccio più cioè a parte che sono tre mesi che non faccio la messa però perché sono nel letto però poi non ho più voglia di pregare non riesco e mi aspettavo come un rimprovo un richiamo una spintarella non lo so io invece mi ha detto guarda non ti preoccupare da oggi dico due volte io le lodi due volte l'ora media due volte la compieta e faccio due messe cioè ci penso io a quello che devi far te che poi io non lo so se vale questa cosa però abbiamo qualche dubbio canonico agli occhi del padre io penso che il padre eterno si sia commosso però di fronte a questo appunto se non vale comunque la farà valere cioè il fatto di come dire una proprio di dire ok io non posso prendermi sulle spalle il tuo dolore perché è tuo e non lo posso neanche capire fino in fondo però posso dirti io ci sono e accompagnarti per come sono capace in questo in tutto questo vi ho fatto solo tre esempi ma ne avrei trenta da fare è stato come dire immediato un richiamo a chi mi mandava questi amici a colui che mi mandava questi amici e perciò al fatto che io non ero solo che la sofferenza non era fine a se stessa ma che c'era qualcuno dentro qualcosa di misterioso che però stava rispondendo tanto è vero che continuava a mandarmi queste persone ecco Luca tu adesso insegni in un liceo religione sei sempre in mezzo ai giovani prima ci raccontavi di tante modalità di incontrare giovani e a volte anche di risposte che non ti aspetteresti e invece arrivano una delle cose secondo me più diffuse tra i giovani anche tra gli adulti ma è la paura della fragilità cioè la fragilità fa paura e si cerca o di superarla in maniera impropria oppure di dimenticarla tu che hai fatto questa esperienza così drammatica della fragilità cosa dici a loro? a loro racconto esattamente quello che sto raccontando a voi cioè non non nascondo quello che vivo ma soprattutto cioè non è tanto il il come dire l'esperienza che ho fatto io ma è come l'esperienza che mi è capitata addosso mi ha veramente mi ha veramente cambiato mi ha veramente vi racconto questo episodio perché poi io sono bresciano non sono capace di astrarre cioè infatti in Africa mi sono trovato benissimo perché tutto concreto era il mio habitat naturale esattamente come Brescia peraltro comunque per esempio questo allora ero in ospedale in poliambulanza arriva una suora e mi porta un santino della madonna e mi dice Don Luca chiedi un miracolo oh posso imparare Stami io non ci avevo pensato ho detto no è vero posso chiedere un miracolo e ho iniziato a pregare chiedendo il miracolo però quando si chiede un miracolo bisogna avere il coraggio di essere specifici cioè devo sapere se la madonna me l'ha fatto o no sto miracolo se io chiedo Maria fammi stare meglio adesso sto meglio me l'ha fatto il miracolo invece no devi essere chiaro perché devi vedere se ti ha detto sì o no allora il miracolo che io ho chiesto era che entravo in sala operatoria mi toglievano le bende perché avevo ancora le ossa scoperte così mi toglievano tutte le bende e ero guarito questo era il miracolo ora vado in sala operatoria così deciso perché l'accordo che avevo fatto con la madonna era che facevo l'anestesia locale così avrei potuto vedere la faccia dei dottori perché il momento del miracolo dovevi essere proprio quello lì capito io dovevo guardare avete fatto una trattativa quindi sì ma noi ci parliamo poi ci capiamo lei parla in dialetto bresciano perciò andiamo d'accordissimo e mi ha detto che andava bene così perciò sono arrivato giù mi ricordo che c'era l'anestesista Marco detto Marco ascoltatemi farla locale ma Luca non si può fare perché guarda che insomma è complicato però anche psicologicamente è difficile non ti preoccupare che io ci ho già fatto degli accordi con altri io pensavo al primario ma non spero la madonna ho fatto stacca e mi ha fatto l'anestesia locale poi in mezzo sto tram tram prima di entrare in sala operatoria è arrivato un medico che mi ha fatto firmare una carta che ti devi firmare prima dell'amputazione o almeno dove l'ho fatta io che devi dire cosa vuoi che sia fatto dell'arto amputato cioè se vuoi che sia cremato o seppellito mi è salita un po' di ansia ho pensato che la ritrattativa si poteva cambiare un attimo che avrei visto il giorno dopo la faccia dei medici ho chiamato Marco e ho detto fammi dormire che è meglio che la vedo domani mi sono addormentato il giorno dopo mi sveglio e c'è ah no prima dell'episodio che vi ho raccontato prima succede questo che era il punto a cui volevo arrivare che praticamente appunto tocco di qua tocco di là e la gamba non c'è più e quindi la Madonna non mi ha ascoltato e quindi alla Madonna non gliene frega niente di me e neanche a Dio e quindi io ho buttato via la mia vita perché se io non fossi diventato prete non sarei andato in Africa e se non fossi andato in Africa non avrei guidato un ospedale se non avessi guidato un ospedale non sarei andato a prendere l'ambulanza che stavo andando a prendere quando ho fatto l'incidente perciò è stato tutto un grande errore tutta una grande sfortuna tutta una grande fregatura eccetera eccetera ma vi giuro che volevo gridarlo questo perché mentre ero lì ricoverato andavo sempre a fare il giro degli ammalati a portare conforto eccetera volevo gridare guardate mi sono sbagliato sono tutte stupidate non credeteci perché guardatemi a me non succedono queste cose sono delle bugie e ma avevo la gola così riarsa non riuscivo né a piangere né a gridare non riuscivo a dire queste cose quello che è successo che dopo un paio di ore così sono state le due ore più nere della mia vita come un fulmine dal cielo mi è arrivato un pensiero in testa una frase del Vangelo che avrò letto cinquemila volte ho sempre pensato che fosse banale ovvero se un padre se un figlio chiede al padre il pane questo gli darà forse delle serpi e a noi sembra che la risposta retorica sia quella giusta ovvero no non gli darà delle serpi gli darà il pane sbagliato non è mica così quello che ho capito in quel momento è stato quello lì è stato il fulmine che è arrivato se un figlio chiede al padre il pane il padre che conosce il figlio sa i suoi gusti può dargli una una piadina con col prosciutto del formaggio sì può dargli un piatto di carbonara o una matriciana sì ovvero può dargli qualcosa che risponde al desiderio del figlio in maniera inaspettata rispetto a quello che il figlio gli ha chiesto sì cioè io ho chiesto al padre il pane e il padre a me il pane non me l'ha dato la madonna il miracolo a me non me l'ha fatto ma questo non implica che non mi porti un piatto di pasta asciutta cioè non implica che non mi porti qualcosa ancora di più grande per usare la parola giusta di più gustoso di quello che io ho chiesto e infatti se penso alla mia vita in quel momento lì cioè tutto è stato un imprevisto e l'imprevisto è stato ciò che ha dato gusto a 16 anni non avrei mai pensato di diventare prete e una volta non avrei mai pensato quando ero in Cile di andare in Africa e quando ero in Africa non avrei mai pensato di dirigere un ospedale eccetera eppure in mezzo a tutti questi imprevisti Dio ma come dire riempito il cuore e perché non può essere così anche adesso lì si è aperta un'ipotesi positiva perché ho raccontato tutta sta pappardella per arrivare ai giovani perché è questa ipotesi positiva che noi ci dimentichiamo di presentare che nel momento in cui gliela presentiamo facciamo schizzare il cuore a questi ragazzi cioè nel momento in cui come dire stiamo di fronte a loro come di fronte a un'ipotesi positiva per la nostra vita quindi non io ti devo insegnare a vivere ma tu sei un dono per me non io so che per te è giusto un, due, tre ma scopriamo insieme come Dio ci può riempire la vita eccetera eccetera nel momento in cui stiamo di fronte a loro in questo modo gli occhi si spalancano come è dal principio dei tempi e il loro sguardo come dire è pieno di quella gratitudine che è riflesso nel nostro si cammina sempre insieme ci si muove sempre insieme anche coi ragazzi educare non significa imporre ma significa tirar fuori ok ma tirar fuori non solo da chi è davanti tirar fuori anche da te è un tirar fuori insieme cioè è un come dire è uno spogliarsi ed è uno scoprire insieme colui che ci può riempire il cuore quando propongo questo cammino ai ragazzi io non so voi ma io non ho trovato ancora uno che non venga dietro questo a scuola in parrocchia dappertutto al bar cioè tutti quelli che trovo con cui nasce questo dialogo questo desiderio si inizia un cammino in questo senso la malattia è stata la strada che ha svelato tutto tutto questo perché mi ha spogliato di tutte quelle strutture di tutte quelle forme che prima in qualche modo di quelle aspettative che avevo su me stesso che prima c'erano quando stai a letto tanti mesi e non sai se potrai più camminare o che certe aspettative come dire passano in secondo piano e tutto questo che ci hai detto che funziona con i giovani o meglio che con i giovani trova come una provocazione una domanda che sponda nel loro cuore come funziona con quelli che sono nelle tue condizioni immagino che avrai avuto rapporti con gente che ha avuto la tua stessa disavventura sì sta succedendo questa cosa abbastanza surreale cioè che ogni tanto mi chiamano i medici per andare a parlare con i pazienti o prima o dopo l'amputazione ogni tanto mi chiedono pure il parere come la vedo io che io dico non lo so sì sei il dottore però in realtà è una cosa incredibile ogni volta perché c'è questa cosa che sempre mi commuove non ho mai parlato con una persona che deve essere amputata o che è appena stata amputata che non mi abbia fatto questa domanda che era la stessa che avevo io potrò tornare alla vita di prima? questa è la domanda che tutti mi fanno e che io mi sono fatto ed è una domanda che c'è dentro una bugia che è pazzesca una bugia e mezza prima è che fino a ieri ti sei lamentato che la tua vita non andava bene che tua moglie non va bene che il tuo lavoro è brutto eccetera adesso devo tornare alla vita di prima che se fosse l'Eden ma perché? e secondo come se non ci fosse nessuna possibilità ancora più bella per domani cioè come se quello che è stato è già al massimo di cui tu ti lamentavi peraltro e anch'io allora gli racconto sempre come è stato per me cioè io perché anch'io ho fatto le stesse domande e ho fatto lo stesso percorso il primo obiettivo che avevo era tornare in Africa il secondo obiettivo era ricominciare a correre ok? non sono tornato in Africa e non corro in compenso sono a Brescia e vado in bici cioè non è che le cose vanno male per forza però vi racconto sulla corsa perché è forse quello più veloce più facile la corsa è stato così che ho cominciato a fare gli esercizi e una fisioterapia specializzata su questo e per il fatto che ero molto allenato prima ho sempre fatto sport eccetera c'era una certa propensione in questo in più il fisioterapista era un genio perciò andava benissimo dunque nel giro di tre mesi perché bisogna fare 30 secondi alla volta 30 secondi 60 un minuto e mezzo eccetera due tre volte a settimana ecco nel giro di tre mesi è arrivato a correre sei minuti venivano fatti dei video venivano condivisi con altri fisioterapisti stava diventando quasi un caso di studio perché appunto i progressi erano velocissimi però fa veramente male e poi implica tantissimo tempo tantissimo lavoro a un certo punto questo fisioterapista e ripeto per cui io ero un successo dal punto di vista del suo lavoro questo fisioterapista è venuto lì e mi ha detto ma Luca ma io ho una domanda da farti ma te dov'è che devi correre? è stata tipo la suora col santino cioè ma perché devo correre effettivamente? cioè è chiaro voglio correre perché voglio essere come prima ma perché? ma dove devo correre? e infatti poi il passo successivo è stato ma non possiamo trovare uno sport che sia visto che ti piace comunque fa sport questo è evidente che sia più congruente più consono con quello che ti è capitato di vivere effettivamente sì ecco è questo il punto adesso poi ho iniziato a fare ciclismo come lo facevo una volta mi piace da morire ho iniziato a fare vabbè adesso non sto a raccontare comunque bellissimo insomma oggi pomeriggio era a rampicare prima di venire qua cioè è bellissimo va bene ma quello che volevo dire è questo cioè quando mi capita di parlare con gli ammalati si parte sempre da un'immagine che noi abbiamo di noi stessi mentre non ci si spalanca veramente la domanda chi sono io ok e dunque come mi puoi riempire il cuore tu perché se io sono quello che corre è chiaro che dovrò correre ok ma non sono una lepre cioè io sono Luca sono un uomo desidero qualcosa di più grande che muovere le gambe basta perciò chi sono io e come può essere riempito il mio cuore quello che mi è capitato di appunto il dialogo con gli ammalati che poi va avanti e che permettetemi di dire prende tanto gli ammalati quanto i familiari intorno perché la malattia è un evento comunitario cioè pur essendo io l'ammalato i miei genitori e i miei fratelli penso che hanno sofferto forse più di me cioè prende tutto perciò seguire uno vuol dire seguire tutto l'entourage però ecco è il fatto di guardarsi di nuovo o per la prima volta con verità e con verità significa camminare insieme verso la risposta alla domanda chi sono io è questo l'unica ragione per cui ho scritto il libretto di cui parlava Giorgio è proprio questa cioè il desiderio di condividere il cammino dentro questa domanda a partire dall'incidente che c'è stato che io vedo come veramente la spinta che Dio mi ha dato perché iniziasse ad abbracciarlo più strettamente di prima allora grazie per la condivisione grazie allora Yulsa Yulsa Tangara che è uno dei protagonisti anche del mio libro Centro Ripartenze forse una delle storie più significative di che cosa vuol dire ripartire e anche il fatto che ci possono essere tante ripartenze non una sola ma tanti momenti della vita in cui la vita riparte e la tua ripartenza può diventare l'occasione della ripartenza per altri in questo senso è una storia emblematica io sintetizzo un po' la vicenda quando aveva sei anni Yulsa era l'unico studente del suo villaggio nel Mali al sud dell'equatore Neghena e gli altri bambini andavano tutti a lavorare andavano a lavorare nei campi andavano a lavorare allevando le bestie andavano a cercare la polvere di oro nel fiume che scorre vicino al suo villaggio lui è stato l'unico che è andato a scuola è andato a scuola perché suo padre credeva nel valore dell'istruzione e dell'educazione peccato che nel suo paese a Neghena la scuola non c'era e quindi Yulsa si faceva 8 chilometri a piedi tutti i giorni per andare e tornare nel villaggio vicino che aveva la scuola e quando ha finito questa scuola dell'obbligo diremo noi per usare un parametro italiano suo padre ha continuato a investire su di lui a credere che l'istruzione e l'educazione fossero una molla decisiva per il suo futuro e allora l'ha mandato a scuola Bamako che è la capitale del Mali ha fatto ragioneria e quindi ha fatto un altro passo avanti mentre tutti i suoi coetanei continuavano a fare la vita di prima poi succede che in Mali c'è un colpo di stato dei militari proteste di piazza Yulsa viene coinvolto scappa va in costa d'Avorio e poi da lì inizia la lunga marcia verso la Libia e come tante altre migliaia di persone di cui ormai tristemente conosciamo l'Odissea dopo essere stato in carcere in Libia si riesce a salire su un barcone per arrivare verso l'Italia viene salvato dalla guardia costiera italiana vede la morte in faccia nel mare mediterraneo ma viene salvato e poi viene portato in un centro di accoglienza e da lì risale verso un altro centro di accoglienza a Bologna dove fa alcuni incontri di cui magari parlerà lui dopo il suo diploma di ragioneria la conoscenza delle lingue gli permettono di trovare abbastanza facilmente lavoro però Iulsa non dimentica il suo passato non dimentica i suoi coetanei che continuavano a lavorare nei campi ad allevare i bestiame e a cercare la polvere d'oro nel fiume e allora si mette insieme ad alcuni connazionali fonda questa associazione Iere de Meton che nella lingua Bambara del Mali vuol dire mutuo aiuto aiuto reciproco e lancia una campagna di fundraising insieme alla Caritas e insieme ad alcune associazioni di Bologna per raccogliere i soldi per realizzare il suo sogno costruire la scuola Neghena e ci riesce dopo un po' di tempo cominciano ad arrivare delle donazioni raccoglie la cifra necessaria per iniziare i lavori nel suo villaggio nel contempo i giovani del suo villaggio vanno nel fiume raccolgono le pietre cominciano a scavare le fondamenta alzano muri cercano le attrezzature per la scuola e nell'ottobre dell'anno scorso il primo sogno di Yussa si avvera viene inaugurata la scuola due classi 62 bambini a Neghena e adesso i bambini di Neghena hanno un futuro hanno la scuola nel loro villaggio hanno l'istruzione quello che era il suo sogno che lui è riuscito ad avverare che i suoi coetani non hanno avuto nel frattempo l'avventura italiana di Yussa continua va a Bergamo dopo aver conosciuto la fondazione Meet Human che fa parte di un'altra fondazione avviata da Daniele Nembrini in scuole professionali che insegnano un mestiere e lì fa uno stage che si è concluso pochi giorni fa giusto Yussa pochi giorni fa perché ha in mente il secondo sogno il secondo sogno di Yussa è aprire una scuola di agraria per avviare con metodi moderni la coltivazione dei campi le procedure di allevamento le procedure di utilizzo dell'energia eolica e dell'energia solare insomma per fare dell'agricoltura moderna e per fare questo bisogna avere un posto dove essere istruiti per questo e quindi lui ha fatto questo tirocinio con la fondazione Meet Human per acquisire le conoscenze necessarie per aprire una scuola di agraria nel suo paese adesso ha finito questo tirocinio è tornato a Bologna dove adesso racconterà lui che cosa fa ecco però tutta questa vicenda che io racconto nel libro ma che lui adesso ci racconterà in maniera più personale è tessuta da questo grandissimo desiderio di ripartire ripartire lui sapete avete ascoltato la sua odissea e far ripartire i suoi connazionali anche perché come spesso ci dice l'istruzione e l'educazione sono il futuro dell'Africa e se vogliamo pensare che tutta l'Africa non può venire in Italia tutta l'Africa non può venire in Europa dobbiamo dare un futuro a queste persone e il primo modo per dargli un futuro è l'istruzione e l'educazione e uno degli slogan che lui ripete spesso è insieme si può insieme insieme agli amici italiani insieme ai suoi connazionali insieme a tutti quelli che vogliono dare un futuro al suo paese e allora come vedete la storia di Ulsa è una storia di ripartenza plurima una ripartenza personale una ripartenza del suo villaggio e del suo paese ecco allora Ulsa aiutaci a capire perché sei così convinto che la scuola l'istruzione l'educazione sono la via principale per lo sviluppo del tuo paese buonasera buonasera a tutti come Giorgio ha detto io vengo dal Mali quelle che non sanno i Mali è vicino a Senegal ringrazio Dio e ringrazio nel frattempo nel frattempo possiamo vedere se la regia ce le manda delle immagini in cui si vede un po' quello che io prima descrivevo cioè tutto il lavorio per la costruzione della scuola fino alla realizzazione del primo sogno di Ulsa mentre lui ci racconta allora dicevo che ringrazio Dio e ringrazio i miei genitori e ringrazio l'Italia per quello che è successo finora nel senso prima cosa non so il motivo in reale il mio babbo mi ha mandato a scuola cioè l'unico il villaggio di 5.000 persone in questa epoca e poi ci ha creduto da bambino non lo sapevo il motivo non sapevo per quale motivo dovevo andare a scuola ma come Giorgio ha detto in quel periodo a volta era tutto difficile anche per me di vedere tutti gli altri coetane che andavano cercare i soldi comprarsi le piccole cose da ragazzino mi veniva la voglia di abbandonare la scuola anche io però non so da questo ragazzino ho pensato per cambiare le cose ci devo continuare a provare altre cose nel senso perché i nostri bisnonni bisnonni facevano la stessa cosa il contadino le stesse giri ho continuato a studiare anche la spinta della società se no la racconta della società mi ha dato un po' di spinta perché mi dicevano in faccia che non ce la potevo fare perché nessuno era riuscito a passare a fare la scuola l'obbligo quindi questo mi dàceva un po' la forza di continuare in qualche modo quando ero ragazzino e come Giorgio ha detto quando sono andato a Bamako e poi sono arrivato fino qua subito ho visto la differenza tra me e i miei coetane c'è di fatto che sono andato alla scuola ho capito tante cose diverse da quelle che vivevo lì nella mia comunità in modo di fare le cose quando sono andato a Bamako in capitale quando ho avuto un diploma di ragioneria ho capito che c'è un'altra vita al di là di quelle che vivevamo noi grazie alla scuola che mi ha fatto capire quella lì l'unico modo se no non c'era nessuno via e questo mi ha fatto capire da lì che mi ha fatto capire subito che gli altri miei coetane erano in qualche modo aprigionanti nel senso da questa vita unica non direi che non potevano vivere meglio però quelle che io ho conosciuto attraverso la scuola loro non poteranno conoscere nella loro vita per me una vita è una sola volta se tu cioè se non riesci a studiare nella vita è una grande prigione che uno non potrà mai sapere quanto è difficile perché lo vivo in carne e ossa con gli amici quando ci parla anche solo per mi fare scrivere la lettera da quando ero ragazzino la lettera alcuni genitori venivano a casa mia per raccontarmi la loro storia intima in cui dovevo scrivere io l'unica cosa che mi ha fatto capire è la scuola l'unica cosa non era differenza di loro sono nato lì come loro tutti questi qua quindi da lì ho avuto una grande differenza ho detto guarda quello che è capitato grazie al meccanismo della vita è capitato però noi cosa possiamo fare tipo io soprattutto io che sono andato a scuola soprattutto io che la gente dico che sono l'unica prima persona che ha studiato quindi da lì ho iniziato a pensare che è un dovere morale per me di sostituire quello che i miei genitori e anche la vita mi ha dato quindi è diventato proprio un dovere morale per me di lavorare per far sì che i ragazzi possano avere almeno le strutture per poter studiare io non ho avuto la chance camminavo tutti i giorni passavo tutte le giornate in family perché i miei genitori non avevano soldi non potevo tornare e mangiare indietro i ragazzi non mi vergognavo di portarmi da mangiare l'unico lì indietro passavo tutta la giornata in fame tornavo al pomeriggio e dovevo studiare alla luce di sole perché i genitori non avevano anche oggi non abbiamo il corrente della luce quindi avevamo qualcosa che si chiama la lampa che metteva petrolio dentro per poter studiare i genitori non avevano quindi dovevo studiare il pomeriggio e così via via in questa grande difficoltà anche la bici non ho avuto l'usso di avere una bici tutti i miei anni scolastico e quindi capendo tutte queste difficoltà di sofferenza ho pensato quando sono arrivato in Italia ne ho parlato un po' con il mio amico Don Vicenzo grazie a chi anche ho conosciuto Giorgio ho raccontato la mia storia un po' e lui ha fatto quando Giorgio è venuto e ho raccontato a Giorgio che l'ha scritto e grazie a Giorgio quelle che io daceva per scontato e ho iniziato ad andare in giro con lui molte volte per raccontare la mia storia quindi quando abbiamo iniziato a mettere un po' le mani sulla pasta raccogliendo un po' di fondo creando la nostra associazione e poi andando lì a costruire la scuola come vedete la gente che si costruisce la scuola tra tempo i genitori che mi hanno visto in modo diverso dal mio coetano hanno creduto anche i genitori con l'organizzazione dei villagini e hanno iniziato i soldi che sono riusciti a portare a dare in mano a raccogliere le pietre a costruire la scuola per fare in modo che i ragazzi tutti possano andare alla scuola il futuro nessuno lo sa però quello che si può sapere quello che si può fare è di dare un'educazione un'istruzione ai propri cari figli io penso che è la prima cosa che un genitore può almeno suggerire al suo caro questo è un po' il motivo io posso dire che è l'accumulazione della mia sofferenza della mia visuta che ho avuto nella mia gioventù e ancora vedere io che i miei genitori la sofferenza che hanno fatto anche ci penso oggi che hanno fatto così tutta la loro vita in questo giro e di lavorare in questo modo l'unica soluzione tutti e due è diventato così un dovere morale per me o se non un obbligo morale per me di fare di dare qualcosa ai miei cittadini nel modo che possono andare alla scuola grazie Ussa quello che colpisce nella sua storia è potremmo usare una formula il valore dell'altro cioè il riconoscimento di quanto l'altro sia determinante nella sua vita per i motivi che abbiamo ascoltato suo padre poi la guardia costiera che lo ha salvato mentre stava negando gli amici che ha trovato a Bologna gli amici che ha trovato a Bergamo la fondazione di un'associazione che già nel nome Iederemeton mutuo aiuto ha dentro questo tema del fatto che da solo non basti da solo non ce la fai è bisogno di un aiuto mutuo cioè di un aiuto reciproco e qui tu adesso ti senti un po' a casa tua anche se hai questo grande amore per il tuo paese non sappiamo quale sarà ancora il tuo futuro se resterai o se tornerai però quello che mi colpisce anche dai racconti che fa lui per esempio è questa grande curiosità questo grande desiderio di conoscere l'altro per esempio lui che proviene da una tradizione musulmana circondato da amici cristiani circondato letteralmente come lui può testimoniare e il fatto che un po' per la tradizione del suo paese in cui il dialogo e la convivenza sono abbastanza pane quotidiano a differenza di quello che succede in altri contesti e un po' per quello di cui ha fatto esperienza qua cioè che il fondamento di qualsiasi dialogo tra persone di fedi e di tradizioni religiose diverse si chiama amicizia quindi magari se ci vuoi raccontare qualche esempio di questa amicizia che ha intessuto anche la tua vita qua sì prima cosa l'Italia io non potrei mai finire di ringraziare l'Italia ringrazio Dio penso che mi ha fatto arrivare fino alla guardia corsiera italiana che ci hanno raccolto e l'Italia mi ha dato casa mi ha dato una struttura in cui ho fatto quasi due anni non pagavo la casa e lo stato italiano che mi pagavo l'affitto mi ha permesso di imparare l'italiano mi ha permesso di conoscere gli italiani altre culture che è diverso da me io ho vissuto un paesino di 5.000 persone e questa è la possibilità io direi che è una chance per me e questa chance cosa posso fare in ritorno è di dare ringraziare da noi si dice se una persona ti fa una cosa di bene se non puoi dare altre cose alla persona almeno dice grazie questo almeno dice quello lì e quindi questa è una cosa per il riguardo lo stato italiano l'amicizia io credo io credo molto all'essere umano cioè nonostante tutte le difficoltà che ho avuto nonostante tutte le difficoltà che nel mio villaggio del mio visuto io credo molto credo molto all'essere umano e questo fa sì che lo ha conosciuto il mio amico Don Vicenzo sì è cristiano è Don Vicenzo io sono musulmano anche oggi però prima di essere Don Vicenzo è Vicenzo il nome è Vicenzo è una persona perché non lo devo mettere una barriera tra di me per me Don Vicenzo e la mia famiglia è un parente uguale il fatto che è una persona che mi vuole bene per quale motivo mi devo mettermi una barriera è un essere umano soprattutto quindi per me l'umanità è quella lì sì che potrò avere delle difficoltà anche con i miei proprio quelle che mi hanno dato la vita non è che tutto è rosso con loro lo potrò avere anche con Don Vicenzo in qualche momento però Don Vicenzo è mio amico è venuto da me mi ha accolto l'ho accolto e siamo amici mi ha permesso di conoscere Giorgio mi ha permesso di conoscere Daniele a Bergamo mi ha permesso di raccogliere fondi per andare a costruire di portare un pezzo dell'Italia nel mio paesino questo pezzo dell'Italia è lì la scuola Giorgio ha detto 72 ragazzi adesso questo anno è il primo anno sono arrivati 80 ragazzi che vanno a scuola ma grazie a chi? grazie ai miei amici italiani io da solo come potevo fare questa roba se potremmo fare lo faremmo da quando ero in Mali se tutto questo lì Giorgio e la carità di Bologna tante persone che ho incontrato grazie a loro questi ragazzi vanno a scuola a me c'entro poco diciamo così chiaro io non vado a scuola ho finito già ho già finito il mio precorso scolastico però questi ragazzi che andranno alla scuola di questo anno o tra 40 anni finché questa struttura funziona io penso a tutti questi ragazzi che passeranno alla scuola ma grazie a chi? grazie agli italiani che mi hanno dato la mano a fare questa roba lì ma non lo conoscono non sanno dove si trova anche il mio villaggio è il bene che uno fa lì quello è più importante questo è il legame in cui per me io credo profondamente perché non è che qualcuno mi ha raccontato perché lo sto vivendo finora e per quale motivo ho detto guarda lì l'obbligo scolastico benissimo e poi non voglio anche lasciare lì loro per la strada perché ci sono mancanza delle strutture ancora se posso fare qualcosa altro in cui motivo sono andato a Bergamo a vivere lì con Daniele e la famiglia di Daniele anche loro mi hanno dato un gran mano con Giorgio sono andato a casa il suo ho conosciuto la sua famiglia siamo diventati grandi amici quindi tutto questo evento accumulato fa anche sono io che mi crea anche io la mia personalità non posso piangere per quello l'unica cosa che posso fare è dare la soddisfazione cioè almeno sono vissuto per qualcosa ho fatto qualcosa per l'umanità anche se io muro domani non c'è nessun problema so che già una scuola può produrre 200 ragazzi o 400 ragazzi che studiarono questo è l'unico e adesso ce lo facciamo come tutti di voi grazie a Iulsa grazie a tutti gli ospiti questa sera io non faccio sintesi non mi piace fare non sono neanche capace ma volevo solo leggervi due frasi che mi hanno colpito che poi ho riportato nel libro perché secondo me rileggono tutto quello che ci siamo detti stasera a proposito del fatto che la fragilità non ci deve spaventare ma perché la fragilità ci appartiene non la possiamo cancellare però come scrive Papa Francesco la fragilità dei tempi in cui viviamo è proprio questa credere che non esista possibilità di riscatto una mano che ti rialza un abbraccio che ti salva ti perdona ti risolleva ti inonda di un amore infinito paziente indulgente ti rimette in carreggiata e un'altra frase che mi ha molto colpito che forse molti di voi conoscono ma la ripeto perché me la sono messa nella mia camera da letto perché mi aiuta a guardare sempre la vita con un'ultima positività e a riconoscere che la fragilità che appartiene a tutti noi non è l'ultima parola ma può addirittura diventare il momento in cui la ripartenza accade il trampolino verso una nuova ricominciamento della vita ed è una frase del cantatore americano Leonard Cohen che dice queste parole suona le campane che ancora possono suonare dimentica la tua offerta perfetta c'è una crepa in ogni cosa è così che entra la luce ecco io spero che andiamo via da questa serata con la convinzione che nelle crepe del nostro cuore può entrare la luce anche grazie a quello che abbiamo ascoltato e testimoni che questa sera ci hanno offerto le loro bellissime storie grazie vi chiedo ancora proprio due minuti di pazienza perché per alcune comunicazioni prima di tutto grazie ancora a tutti quanti secondo me questa sera è emerso un aspetto che sicuramente vorremmo approfondire cioè riprendo quello che diceva Iulsa prima questa amicizia questi luoghi che permettono di prendersi carico del bisogno dell'altro e che sono luoghi a volte che diventano anche realtà sociali che portano nel mondo una visione del mondo quindi anche cultura non è uguale a zero e quindi sicuramente questo è qualcosa che vogliamo vogliamo assolutamente approfondire grazie